Una riunione di commissione in zona 8, di cui dirò a breve perché come al solito l'informazione gira in vari modi, abbiamo messo il verbale della commissione della precedente riunione del Campo Eccetta sul sito partecipi del Comune, su Facebook, c'è il gruppo Salviamo i Domeni e MacMahon, però non tutti hanno il PC e quindi è bene fare alternare questi incontri, non tutti vengono, ahimè la commissione del Consiglio di zona, devo dire che l'ultima di lunedì della settimana scorsa era molto partecipata, abbiamo parlato degli ormi di MacMahon e non sarà l'ultima perché dopo questo incontro sicuramente almeno un'altra dovremmo farla perché poi questi sono incontri pubblici, secondo me è di importanza fondamentale per capire per me e per tutti, anche i colleghi consiglieri, cosa ne pensano gli abitanti, le idee, le proposte e poi deve esserci anche un passaggio formale perché noi siamo stati chiamati come zona 8 ad avere un ruolo nei confronti dell'amministrazione per quanto riguarda la raccolta delle idee e le proposte delle idee che vengono fuori e già devo dire c'è qualcosa che sta nascendo, rispetto al precedente appuntamento c'è già un embrione o forse anche qualcosa di più di idea di proposta, credo nuova rispetto alle quattro proposte che erano state presentate dal Comune o comunque che si avvicina di più a quella conservativa, conservativa nel senso di conservare il finale degli alberi di MacMahon però con delle variazioni credo molto interessanti perché tenete conto che uno degli aspetti più delicati e più anche importanti che ci veniva data dall'amministrazione era ok potete fare delle proposte, delle idee nuove però devono essere da un punto di vista economico, devono stare in piedi e non è una cosa sbagliata, consente di ragionare tutti e fare degli sforzi non di grande fantasia perché la soluzione più bella possibile deve essere poi realizzabile se non rimane solo una cosa astratta che non vedremo mai e io credo che ci stiamo arrivando. Io credo anzitutto vorrei ringraziare tutti i invitati, tutto quello che state facendo perché ha già ottenuto un risultato importante, ha portato l'obbligo da parte dell'amministrazione a fare attenzione a quello che non solo si dice ma si fa, non è scontato, queste cose ci sono persone brave e competenti che lavorano però la competenza, la bravura viene affinata se tic saltano le antenne perché ci sono molti cittadini come voi che sono attivi, che sono attenti, che hanno fatto sentire la loro voce e che si stanno muovendo e che hanno attenzione non solo a capire cosa succede ma a intervenire e dire a loro su che cosa sta succedendo. Quindi già questo ha messo, devo dire, comunque sia l'esito, io sono moderatamente ottimista, ma ha già messo la cosa su un piano diverso rispetto a molte altre cose che succedono in città e credo che quanto sia avviato qua sia tutto sommato qualcosa che può servire non solo a Via MacMahon ma anche all'intera città. Noi abbiamo rischiato e scongiurato grazie alla maturità di tutti un'assurda contrapposizione tra il partito del Trump e il partito degli Olmi, forse c'è qualcuno che vuole continuare questa guerra come facevano i giapponesi in Birmania a vent'anni dopo che era finita la seconda guerra mondiale che tiravano i sassolini e altre cose, libero di farlo, però diciamo che già oltre il livello della discussione è già oltre, non si mette in discussione, bisogna la necessità di intervenire per mettere in sicurezza la tramvia, l'armamento tramviario, l'oggetto è, la domanda da cui noi siamo partiti tutti, ma questo veramente rende necessario il sacrificio degli ordini. Io credo che siamo arrivati a un punto di ragionamento in cui la risposta è no e adesso vediamo in che modo ci arriviamo. Quando ci siamo visti l'altra volta in Peccetta, vi ricordate che era da appena 24 ore disponibile sul sito del Comune la relazione agronomica. Abbiamo dato una coppia, c'erano proprio due campi in zona, ma io per primo non avevo avuto modo di leggerla con attenzione, vi avevo riportato alcune cose che erano le cose che mi sembravano fossero più macroscopiche. Ce ne sono altre sulle quali abbiamo concentrato attenzione e volevo riportarvi qui per chi non era presente, credo pochi di qui fossero presenti in commissione di Consiglio di zona la settimana scorsa, su alcuni aspetti importanti di questa relazione da cui poi partiamo per arrivare alle conclusioni di proposta. L'agronoma che secondo me, l'agronoma che ha fatto il lavoro per quanto detiene, criticabilissima, ci sono diverse opinioni, secondo me ha fatto un lavoro da un punto di vista professionale intellettualmente onesto perché ha chiarito, nonostante la sua posizione, poi vediamo il percorso che segue, forse quella più favorevole della Bacinito, ma ha avuto un percorso molto chiaro, perché dice che cosa? A pagina 30 della relazione non si ricordano, parliamo qui dei filari di MacMahon, non si ricordano né sono registrati nella banca dati comunale rotture al piede o ribaltamenti della zolla di uno dei esemplari degli ormi di MacMahon, cioè a differenza di quanto è successo nel recente o anche remoto passato, non esiste a memoria né nelle banche dati, una rottura di uno degli ormi al piede o ribaltamenti della zolla. Quindi questo significa che sembra contraddire le supposizioni della stessa agronoma che questi alberi stiano in piedi solo per le radici orizzontali in 30 cm di terreno. A pagina 61 dice che se quanto l'apparato radicale di questi ormi abbia trovato condizioni idonee a svilupparsi sotto la lastra catramata, voi sapete che 40 cm sotto la strada delle rotaie c'è questa lastra catramata che aveva fatto supporre l'agronoma che dalla lastra 40 cm era la superficie, quello era l'unico spazio possibile per le radici degli ormi. Però la stessa autrice di questa ipotesi dice che ciò non si esclude a priori che gli alberi hanno potuto trovare condizioni idonee a svilupparsi sotto, anzi è plausibile se si considerano alcune sconnessioni localizzate e lo spostamento di alcuni cordoni. Quindi dice che nel mio modello teorico sul quale sto costruendo l'ipotesi di abbattere tutti gli ormi, sto dicendo che gli ormi hanno solo queste radici, però non è escluso che in realtà ma io non posso vederlo, dice, gli ormi si siano sviluppati anche ben sotto questa lastra catramata e questo giustificherebbe questa incredibile stabilità al vento e alle cadute di neve rispetto ad altre zone e non lo escludo. Tuttavia, l'aspetto importante che l'altra volta ci aveva sfuggito, però è questo, partendo da ciò che si vede e quindi non da ciò che vi è realmente in profondità, questa relazione, segnare il pericolo di stabilità degli alberi conseguente allo scavo. Lo scavo abbiamo sentito l'altra volta, c'erano appellizioni, altri agronomi, è una ferita. Lo scavo impone una potatura delle radici, sarà decisivo capire e in alcuni casi questa potatura delle radici dovrà venire sarà di una certa importanza perché in alcuni casi le radici sono andate. Però questo pone un altro discorso, vediamo dopo chi farà questo lavoro di potatura delle radici. Lo fa l'uomo ATM con ramazza e scavatore o lo fa un agronomo? Quindi la necessità di ridurre la chioma, voi sapete nella relazione che avevamo visto l'altra volta c'era l'ipotesi di abbattere quello che non si abbatteva, si riduceva la chioma perché sulla base di questo ragionamento la stabilità, l'instabilità indotta è tale che o si tira giù l'uomo si riduce la chioma. E la somma dei due interventi, amputazione parziale dell'apparato radicale, causa scavi e drastica potatura, si traduce in un notevole danno per l'albero per cui si diceva tanto vale. Ma tutto questo, come non si è visto l'altra volta di commissione, non sulla base di un'indagine strutturale dell'albero ma sulla base di simulazione. Io ipotizzo che la situazione sia questa di sotto e quindi simulando che in una situazione così povera di radicamento dell'albero, con un vento che soffia a 100 km orari e con una nevicata di tre giorni, l'albero viene qui. Ma simulo sulla base di un'ipotesi. Allora il ragionamento che noi abbiamo fatto in commissione, abbiamo iniziato a fare commissione, è capovolgere tutto questo tipo di ragionamento. Capovolgere questo ragionamento avendo un elemento importante da tenere conto, il tempo e i soldi. Allora i soldi, nell'ipotesi di drastico ridimensionamento del filare alberato, la soluzione 2 che era stata ipotizzata dal comune, si prevedeva appunto un taglio drastico di molti esemplari di Olmi e il trapianto, il trasferimento in altra sede della zona 8, degli esemplari sani, maturi, belli. Nella relazione agronomica viene detto che sono circa 20 gli alberi di questo tipo. Ora ci siamo informati, abbiamo fatto due conti, trapiantare un albero di quelle dimensioni, di quell'età viene 30.000 euro a pianta. Significherebbe che spenderebbero l'amministrazione, noi e i cittadini spenderebbero 600.000 euro per trasferire una ventina di esemplari di Olmi che levati da qui, qui è la loro casa e hanno un senso. Piantati come degli asparagi in altre zone casuali, non so che da un punto di vista proprio io sono un difensore delle piante ma è uno spreco di denaro e una sofferenza inutile delle piante. Allora, questi 600.000 euro previsti nell'ipotesi più draconiana di intervento, più radicale, possiamo risparmiarli e possiamo utilizzarli invece per una finalità esattamente opposta che è quella di salo a guardare l'intero filare e in che modo. Ci sono stati degli interventi che spero che ci siano anche qua perché io non sono agronomo, ho fatto scienza politica, non sono tecnico di questo anche se come molti miei colleghi siamo costretti e che fortuna abbiamo l'aiuto di agronomi, di persone esperte che ci stanno insegnando varie cose. Allora, la proposta è messa in commissione è quella di rinunciare a ogni opzione, diciamo all'amministrazione grazie a questi 600.000 euro che li tieni, ci riteniamo, l'amministrazione comunale non li spreca e invece di prevedere una demolizione facciamo un'analisi di carico, di analisi di tenuta strutturale alla pianta, al tronco della pianta per ognuno degli olmi prima e dopo i lavori di rifacimento dell'armamento ferroviario. Con tecniche che si realizzano in varie parti del mondo, in Italia, in Europa, dovunque, si fanno queste prove di carico sulle piante che praticamente esercitano sul tronco la stessa pressione che viene esercitata dal vento a 100 km orari, da un carico di alcune quintali di neve bagnata e si ha prima e dopo la risposta non sulla base di un'ipotesi di una simulazione, l'ipotesi reale di quanto quel singolo olmo tiene, quindi ogni pianta ha una storia a sé, senza nessuna ipotesi, perché io credo che tutti noi abbiamo chiaro l'obiettivo che l'olmo è bello da vedere soprattutto se è così gentile a non caderci in testa, la sicurezza è un elemento assolutamente centrale. Questi ormi oggi sono, fanno parte di un... Attenzione, questo pone due tipi di problemi però, e qui chiudo l'introduzione. E cioè che qui, attenzione di importanza che questa cosa ha avuto. Allora noi dobbiamo fare un ultimo sforzo, dobbiamo cercare di, noi come Consiglio di zona, parlo credo non solo personalmente ma anche per gli altri colleghi presenti di maggioranza e di opposizione con i quali, devo dire, ci stiamo muovendo in modo assolutamente uniforme perché non succede molto spesso, quasi. Però, quelli che contano sì. Vi chiedo veramente di fare uno sforzo da questo punto di vista di ammaloramento con degli studi, dei dati, dell'analisi ingegneristiche al millimetro di qual è il livello di erosione, quanto dovrebbe essere la rotaia di espressione normale, quanto è la rotaia adesso, i dislivelli, eccetera, eccetera, lo stato delle traversine. ATM, già venire il discorso ha bloccato, adesso lo sta facendo raffinare ulteriormente. Quindi è una notte sta... Sì, sì, sta raffinando queste cose e quindi arriverà. Questa è una cosa importantissima perché anche questo riguarda un aspetto fondamentale. Chiaramente, diciamo che l'aspetto degli Olmi è legato ma è parallelo. Se dall'ATM venisse fuori il risponso documentato che bisogna sostituire un chilometro e mezzo, 500 metri, 100 metri o un metro, noi siamo più contenti se hai meno perché sono meno soldi che spendiamo, ma indipendentemente dalla quantità, se tutto lasse come previsto e come credo che sarà necessario alla fine o porzioni di questo, questo non intacca è il ragionamento che abbiamo fatto sugli Olmi, nel senso che qualunque sia tutta o parte il ragionamento da fare è prove di carico e obiettivo di salvaguardare integralmente ogni singolo albero con queste prove di carico. Io ho finito, vi lascio la parola se ci sono altre domande o altre proposte su come andare avanti. Io credo che entro una decina di giorni dovremmo fare un altro passaggio, vedo che queste sono assemblee pubbliche importantissime per diffondere la formazione, poi ancora in commissione un altro passaggio per decidere poi e per chiudere la partita. C'era Boati, poi c'era Signor. Grazie, io credo che siamo arrivati nella direzione giusta e vorrei però cercare di precisarla un po' nei dettagli. Allora, la prima osservazione, la ripeto anche se è antipatica, la valutazione non positiva o comunque dubbio, perché se così non fosse non occorre fare niente, basterebbe stare sul binario e avanti. La relazione agronomica che è il punto da cui si parte ha due problemi, un problema che è relativo al fatto che è stata commissionata non dal comune ma da ATM, infatti la prima riga dice, ATM ci ha chiesto di rifare tutta la linea. Stavo facendo adesso le prove per dirci che è vero che va rifatta, voi capite, c'è un po' di contraddizione. Il secondo punto sul quale mi permetto di dare giudizi, perché io sono architetto urbanista, non agronomo, però la mia parte di lavoro la so fare. Dentro la relazione agronomica ci sono delle valutazioni relative all'opera pubblica da fare, quindi tipo architettonico, ingegneristico, ditelo come volete, che sono insomma largamente indimostrate. Ci sono anche delle analisi sullo stato di fatto che sono largamente indimostrate. Ve ne dico una per tutte. Se leggete la storia del solettone è descritta quasi come una barzelletta, perché non ci sono carotaggi, ci sono due punti in cui è stato scavato, non si dice da dove va a dove va, di che cosa è fatto, se è di cemento oppure se è di conglumerato bituminoso, voi capite che non si tratta di nessuna conclusione fine, non voglio prenderla più che tante. Però questo è sufficiente a descrivere la necessità di una profondità. Poi quando avremo le prove ATM, io stesso dirò di più su quella relazione, per dire ci sono dei punti specifici in cui non va e se ne si vuole. Quindi sono molto d'accordo sulla proposta che sta facendo Federighini, non i cittadini singoli poveretti, ma il Consiglio di Zona si prende cura di rappresentarli e propone certi approfondimenti. Allora io userei per descrivere questi approfondimenti non tanto il termine studi, ma cantiere della conoscenza, perché lì ci vuole un piccolo cantiere per arrivare alla conoscenza. La conoscenza è tutto aperto, squadernato, si studia, si fanno magari solo delle misure, invece lì non basta questo, occorre un cantiere della conoscenza, cioè un piccolo cantiere, campionario eccetera, finalizzato a capire meglio di quali parti consta il cantiere della conoscenza. Consta, primo, nella messa a nudo del sistema radicale di alcune piante campioni. Bisogna farlo su alcune piante che danno fastidio e anche su alcune piante che non danno fastidio, perché voi capite che se venisse fuori dal cantiere della conoscenza che le piante che non danno fastidio visibilmente, effettivamente non danno fastidio e sono i 4 quinti o i 5 sessi, avremmo quasi risolto il problema, perché abbiamo dimostrato. Questo andavo facendo il programma dei lavori. Terza o quarta cosa, a quel punto sì faccio il pool test, cioè provo la stabilità degli altri. Prendo le situazioni più o meno critiche, critiche intermedie, e quelle su cui non c'è da fare niente, possiamo anche non farlo, pure lo facciamo ma per avere un raffronto, no? Dopo questi passi io conosco le situazioni che diventano critiche, le situazioni che diventano semicritiche e anche le situazioni in cui non c'è da fare, cioè quelle in cui dovrei segar via una radice, dovrei segarne via due o dovrei segar via soltanto un appendice o quelle in cui non ce la fare niente. Su queste situazioni faccio il pool test prima dell'intervento, cantiere della conoscenza, effettuo l'intervento, perché va fatto così per forza di cose, dopo l'intervento faccio il pool test per gli alberi disgraziati, per gli alberi così così e per gli alberi buoni non ce li dovrei fare il secondo perché sono rimasti come prima. A questo punto confeziono il progetto, una proposta di progetto ragionata. Allora la proposta che vi faccio io è che per la prima volta nella storia di quel che non è il decentramento di Milano, il decentramento, tu hai fatto la proposta, io la sto semplicemente, gli sto dando un po' di ci c'è più, ma sto dicendo esattamente la stessa cosa, per la prima volta il decentramento invece di essere cinghia di trasmissione delle decisioni centrali, prenda lui in mano la progettazione di un intervento che ha un forte carattere di rilevanza. E quindi dal basso non concludano, questo è il ritmo che vi abbiamo fatto. Grazie. 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 Grazie.